Io credo che dai ragazzi del Cairoli arrivi un messaggio e un'esigenza, cioè quella di conoscere di più su diritto, economia, che sono anche discipline che loro già studiano ma che vogliono approfondire, non solo per prepararsi meglio all'esame, cosa peraltro legittima, ma anche per prepararsi a essere dei cittadini responsabili. Io credo che la loro iniziativa vada in una direzione che può incontrare quella di Anci su cittadinanza e Costituzione, perché comunque c'è l'idea che un cittadino riesce a essere tale pienamente solo se conosce bene i suoi diritti, i suoi doveri e i meccanismi che regolano la vita civile e il funzionamento dello Stato. Come amministratori credo davvero che questa sia una ricchezza e credo davvero che vada valorizzata questa spinta che viene dai nostri ragazzi.